E' arrivato di nuovo il momento. Dopo il Galaxy S20 Fan Edition dell'ottobre 2020 il tanto atteso successore sta arrivando, il Samsung Galaxy S21 Fan Edition, in breve l'S21 FE. E' stato annunciato il 4 gennaio e sarà nei negozi dall'11 gennaio 2022. Cosa può fare questo dispositivo? A chi è destinata la vendita? E soprattutto qual è il modo migliore per venderlo? Queste sono le domande a cui risponderemo in questo video. E' bello averti qui e ora divertiti! Prima di iniziare dobbiamo classificare il dispositivo. L'S21 Fan Edition è un'estensione della serie S21. L'idea è quella di offrire agli appassionati di dispositivi di alta qualità un dispositivo a prezzi più accessibili, soprattutto anche ai clienti che semplicemente non si possono permettere un S21 Ultra. Qui il rapporto prezzo prestazioni è molto importante per il cliente e l'S21 FE è stato progettato soprattutto per questo. Prima di guardare le singole caratteristiche abbiamo bisogno di una panoramica del prodotto. L'S21 FE arriva in Svizzera con una diagonale dello schermo di 6,4 pollici e in colori. Verde oriva, bianco, nero e lavanda. Tutti colori molto semplici. E forse ancora più importante da sapere è che le Galaxy Buds 2 hanno gli stessi identici colori, quindi sai già che potrai fare una vendita combinata. Tutti e quattro i colori sono disponibili in due varianti. Uno con 6 giga di ram e 128 giga di memoria, l'altro con 8 giga di ram e 256 giga di memoria. E sì, il dispositivo è certificato IP68, quindi è protetto in acqua dolce per 30 minuti fino a un metro e mezzo di profondità. Importante, a differenza del suo predecessore, l'S21 FE non ha la slot per la microSD, quindi è molto importante suggerire al cliente una buona soluzione cloud. Il prezzo per la variante da 128 giga è di 749 franchi, mentre per la 256 è di 819. Quindi con 70 franchi in più abbiamo il doppio della memoria. Con questo siamo pronti ad andare più in profondità e vedere cosa ottiene il cliente a questo prezzo. Per non perdere la visione d'insieme si possono ricordare tre parole chiave, display, prestazione e fotocamera. Non preoccuparti, li esamineremo per ordine. Iniziamo dalla cosa che salta di più all'occhio, il display. Un nuovo display, dinamica AMOLED 2X, è stato installato nel Galaxy S21 FE. A differenza del predecessore, il cliente ottiene 64 volte di colori in più. In termini di colori, questo significa che nell'S20 FE veniva installato un display Super AMOLED, mentre nell'S21 FE viene installato lo stesso display della famiglia S21. Inoltre il display anteriore non è dotato di un Gorilla Glass 3, ma dell'ultimo Gorilla Glass 7, chiamato anche Gorilla Glass Victus. Anche qui il cliente ottiene display più robusto che Samsung ha da offrire, identico al resto della famiglia S21. Infine, anche il gioco preciso e lo scorrimento fluido sono assicurati. Il display offre una scelta di 120 o 60 Hz di frequenza di aggiornamento. Questo significa che il numero di fotogrammi al secondo non è costantemente regolato come in un S21, ma la velocità di 120 Hz è sempre disponibile quando il cliente ne ha bisogno. In sintesi, questo significa che abbiamo un display Dynamic AMOLED 2X con 64 volte di colore in più, un Gorilla Glass 7 per una maggiore resistenza e la possibilità di attivare i 120 Hz ogni volta che ne abbiamo bisogno. Passiamo ora al tema delle performance. Prima di tutto è importante evidenziare il processore. Con l'Exynos 2100, il Galaxy S21 FE ha lo stesso processore di 5 nanometri di tutta la famiglia S21 ed è attrettanto potente. Inoltre c'è una batteria da 4500 mAh, in modo che il cliente abbia energia per tutto il giorno. Chi vuole caricare la batteria può farlo con un caricatore Super Fast Charging da 25 Watt o con un caricatore da 15 Watt. C'è anche un'altra caratteristica di punta, il Wireless Power Share. Così, per esempio, possiamo caricare le nostre Buds 2 sfruttando l'energia dell'S21 FE. Basta attivare la funzione Power Share e appoggiare le nostre cuffie sul retro del telefono. Questi sono i fatti concreti, ma per il cliente sarà importante che voi rendiate questo potere tangibile. E il modo migliore per farlo è con la macchinetta fotografica. Se si vuole mostrare al cliente in 30 secondi quanto è potente l'S21 FE, basta attivare la fotocamera e andare sotto Altro. Come per tutta la serie S21 avete la possibilità di una doppia registrazione. Questo significa che è possibile registrare con la fotocamera anteriore e quella posteriore allo stesso tempo, sia fianco a fianco che Picture in Picture. Non c'è modo migliore per mostrare quanto sia potente il processore al cliente. Inoltre, la modalità ritratto permette di creare effetti speciali dell'immagine anche prima di premere il pulsante di scatto. Naturalmente c'è anche la funzione scatto singolo, dove si riprende il soggetto per un certo tempo e poi si ricevono vari suggerimenti dal software. Tutte queste caratteristiche sono lì per dare libertà creativa al cliente, quindi mi raccomando lasciatelo provare. La fotocamera frontale offre un obiettivo da 32 megapixel che è perfetto per contenuti di alta qualità, come quelli necessari per Instagram e TikTok. Sul retro il cliente ha tre lenti a sua disposizione. Una fotocamera principale in formato granagolare, una fotocamera ultraangolare e infine un teleobiettivo con zoom ottico 3x. Anche qui lo zoom ottico è un modo semplice per far vedere al cliente quanto è potente il telefono, perché dove abbiamo uno zoom ottico vuol dire che non abbiamo perdita di qualità. La fotocamera principale e il teleobiettivo sono anche dotati di uno stabilizzatore ottico d'immagine che assicura scatti senza movimenti. All'inizio di questo video abbiamo parlato di classificazione, ma questo non è solo importante per il cliente per avere un'idea del prodotto, ma è importante anche per voi perché andremo a vedere dove si possono fare le vendite combinate. Per prima cosa ci sono sempre i Galaxy Buds, sia sotto forma di Galaxy Buds 2, che sono un perfetto abbinamento di colori, o naturalmente le Galaxy Buds Pro, se il cliente vuole la migliore esperienza Buds. A seconda della combinazione siamo sempre sotto i 1000 franchi con entrambi i bundle. D'altra parte può essere che lo smartphone sia troppo grande per il cliente o che la fotocamera non sia abbastanza potente. In entrambi i casi si consiglia il Galaxy S21 o anche il suo superiore. Si capirà qui dove il cliente si sente più a suo agio. E a proposito di vendite combinate, quali accessori ci sono? In primo luogo c'è la Smart Clearview. Permette al cliente di vedere informazioni importanti come l'ora, la data e la batteria anche quando il coperchio è chiuso. Inoltre c'è un rivestimento antimicrobico per un maggiore igiene. I colori sono identici a quelli della serie S21 FE, vale a dire nero, verde oliva, bianco e lavanda. Per i clienti che vogliono la loro custodia pratica e morbida sceglieranno la cover in silicone. Oltre ai quattro colori dell'S21 FE è disponibile anche in colore rosso. Chi vuole ancora più stile può optare per una cover in silicone con un cinturino elegante, come già sappiamo, del Galaxy Z Flip 3. Disponibile in blu e in bianco. Quest'anno aggiungiamo una nuova caratteristica, la Slim Strap Cover. La base è trasparente con una colorazione chiara e con un cinturino colorato per uno stile e una monopolazione più sicura. Infine, ma non meno importante, abbiamo due varianti della Clear Cover. Una come copertura chiara classica e una come Clear Standing Cover. Quest'ultima permette di posizionare il proprio telefono sia in orizzontale e sia in verticale, senza avere un accessorio aggiuntivo. Quindi siete ben preparati per la vendita del Galaxy S21 Fan Edition e vi auguriamo ogni successo. Siate liberi di condividere questo video con tutti i vostri colleghi di lavoro. Più il video viene condiviso e più sappiamo che vi è piaciuto. A presto e buon inizio d'anno! Ciao! Grazie a tutti.